apri di sesamo una nuova trasmissione di tele web vision napoli oggi le porte di sesamo si aprono su queste sono le prospettive per il nuovo gazzito dell'associazione il mare bagna quindi in miniatura questa è un'anda un pezzo e poi ne verranno fine a 11 metri la differenza tra il lavoro che si fa d'estate e quello che si fa d'inverno tu quante barche riesci a mettere a più o meno in linea di massimo dico quante ma potrebbe essere 12 in costruzione nuova qualcuno ma in riparazione variazione molto sempre tra amici ma si diceva perché qui è una sezione chiariamo questa è un'associazione intitolata il mare bagna sancio l'associazione annovera mi pare una quantità una miliardi di soci e così e tutti tutti i soci vengono atti per essere riparati un discorso di quasi è un regalo che se si è poi se c'è la regalia anche da parte loro vediamo un altro questo signore è stato aiutato nella parte ha fatto qualche lavoretto tipo per esempio cambiare qualche tavola lei fa parte dell'associazione mare bagna san giovanni un fondatore quindi linea di massima linea di massima ha pagato un accidente ecco 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 allora insomma è proprio il fatto che l'associazione ecco in quadro tutte e due l'associazione unisce gli amici parlo che faccia una cosa bellissima l'anno venturo bene sto riprendendo che stiamo lavorando per voi stiamo preparando per voi per l'anno prossimo cose carine channel faremo cose grandi bene sto riprendendo che stiamo lavorando per voi bene sto riprendendo che stiamo lavorando per voi avremo a av зависita noi bene sto riprendendo che stiamo lavorando per vai beh se bene ci stiamo lavorando per voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti